Confronto con i fedeli all'interno della Basilica di Pompei per Monsignor Alberto D'Urso, nominato presidente della Consulta Nazionale Anti-Usura, una consulta che mette insieme tutte le fondazioni impegnate nel nostro paese per combattere la piaga dell'usura. Attraverso le nostre telecamere il messaggio del neopresidente che ha assunto l'incarico che fino a poche settimane fa era di padre Massimo Rastrelli. E perché San Matteo oggi? Perché per il primo anno noi leghiamo questa festa alla indicazione che ci è venuta dalla conferenza episcopale italiana e dalla congregazione per il culto divino e i sacramenti. San Matteo è stato nominato patrono delle fondazioni in Italia, quindi preghiamo per i volontariati, preghiamo per coloro che sono usurai, perché possono avere una illuminazione dello Spirito Santo anche attraverso la intercessione di San Matteo e della Madonna, preghiamo per le vittime dell'usura, e sono tante, tra gli 8 milioni di povere che sono a rischio di povertà o già caduti in povertà piena e assoluta, certamente ci sono molte vittime dell'usura e anche tante vittime di una delle cause dell'usura che è l'azzardo, che purtroppo grazie anche a una pubblicità incannevole, imperversa in Italia, generando situazioni di indebitamento, generando situazioni di disastri personali, familiari ed economici. Vittime dell'usura che vedono nella porta della chiesa e della parrocchia una speranza, che poi fortunatamente si concretizza, spieghiamo ai telespettatori come. Sì, vedono in Gesù Cristo innanzitutto una speranza, perché non senza motivo il Vangelo ci racconta almeno di due persone che Gesù ha sottratto questo mondo dell'usura, uno è Matteo che ho citato, che veniva conosciuto come Levi, e l'altro è Zaccheo di Gerico. Ma anche la parabola che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi del Signore che condona un grosso debito, sta a indicare di quale sensibilità caritativa dobbiamo essere ricchi, e anche coloro che ricevono i benefici a loro volta, li ricevono questi benefici perché abbiano a formarsi una educazione alla solidarietà e alla condivisione. E quando nel Vangelo leggiamo che la persona beneficata non benefica a sua volta, vediamo che viene condonnato proprio da colui che l'ha beneficato intanto, perché come si riceve bisogna che sappiamo anche donare, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ma anche rimetti a noi i nostri debiti, rimetti anche quello che noi di male abbiamo fatto, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. A me pare che qui ci sia tutto un messaggio di solidarietà che ci fa guardare al Signore, il cui amore è un amore senza misura.